Armando, in questi casi è bene che il tifoso stia accanto ai giocatori magari durante gli allenamenti, durante un allenamento durante la settimana? Ma che ho detto prima, per me l'unica strada per uscire da questa situazione è riavvicinare totalmente i tifosi alla squadra. Il perché sia stato chiuso il torre di grifo non lo so, però io credo che in questo momento, se il penultimo in classifica non si ha più niente da perdere, provare la carta e riavvicinare i tifosi alla squadra possa essere una mossa giusta, fermo restando che poi i tifosi si devono comportare in un certo modo se entrano nella casa del Catania, perché se devi andare per fare confusione o per contestare non ha senso, è meglio che non ci si vada. Il tutto ha senso se i tifosi dicono ok facciamo una tregua fino a fine maggio, in inizio giugno, fino a fine del campionato e poi facciamo quello che c'è da fare. Difficoltà nell'organizzare mentalmente i giocatori ad affrontare un'altra trasferta, da dove il Catania fino a questo momento ha portato a casa soltanto, se non sbaglio, due, tre punti. Pardon, mi ero dimenticato. Difficoltà anche da parte dell'allenatore? Sì, sicuramente sì, perché se una squadra non rende da così tante partite come non sta rendendo il Catania in trasferta, sicuramente non possono essere solo limiti tecnico-tattici. C'è da fare un bel lavaggio del cervello a tutti e proprio l'apporto dei tifosi, la vicinanza dei tifosi in settimane, io credo che possa essere un aiuto per l'allenatore. Presidente Nello Russo, non dobbiamo mai perdere l'ottimismo? Per forza, altrimenti non saremmo qua. Certo. Allora, naturalmente bisogna sempre continuare chiaramente a sperare. Ma guardi, tutti i tifosi, ognuno, io faccio parte dei tifosi, ci ingazziamo, diciamo le brutte parole, ci andiamo, sbattiamo la porta, però alla fine ritorniamo sempre sul luogo del delitto, quando andiamo allo stadio, tifiamo, soffriamo e gioiamo quando facciamo gol. E quindi il nostro auspicio è quello di vedere questi giovanotti alzare la testa e fare bene per loro, per la città, per tutti. e Catania non è una piazza qualsiasi che può, che deve andare in Serie C a fare che, non abbiamo niente a che dire, non è la nostra categoria, avremo altre difficoltà, altri problemi. Allora. 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 Grazie a tutti.